Al Ghevi Stadium di Bergamo va in scena la nona giornata della Serie A team l'Atalanta. Ospita l'Udinese e i nerazzurri dopo la trasferta in Champions League a Manchester. Vogliono dare continuità in Serie A alla vittoria contro l'Empoli. I bianconeri invece cercano i tre punti che mancano dalla terza giornata. Sarà una partita povera di occasioni. La prima c'è l'Atalanta con Ilicic che si libera sulla destra, mette in mezzo il pallone deviato. Silvestri però si fa trovare pronto sul primo palo. Udinese risponde al minuto numero 22, lancio in profondità per Beto che scatta alle spalle di Lovato. Controlla e mette un cross basso per Molina sul secondo pallo. Il numero 16 però non riesce ad inquadrare la porta. La chance più gota per i nerazzurri arriva 5 minuti dallo scadere del primo tempo. Sapata si gira, mette in mezzo per Ilicic che anticipa a Becao. Il pallone però rimbalza prima contro il palo, poi contro la schiena di Silvestri. Il ramarico di un incredulo. Josip Ilicic ma è un'Atalanta che accelera sul finale di tempo. E ha un'altra grande occasione con Mario Pasalic. Un minuto più tardi, lancio di Malinowski. Perfetto il controllo del numero 88 che si libera di Becao. Prova a sorprendere Silvestri con la punta. Pare in due tempi però il portiere dell'Udinese. Il primo tempo termina così 0-0 ma il punteggio si sblocca dopo 12 minuti dall'inizio della ripresa. Percussione centrale di Mario Pasalic che appoggia per Malinowski. Non ci pensa due volte l'Ucraino. Controllo e sinistro nell'angolino. A battere Silvestri. 1-0 per l'Atalanta. Terzo assist nelle ultime due partite per Mario Pasalic. E come sempre un cecchino Malinowski. Secondo gol in questa Serie A. Ed è ancora l'Ucraino a essere pericoloso a metà ripresa quando Becao lasce lì il pallone. Libera ancora il sinistro Malinowski. Questa volta è centrale. Respinge Silvestri. L'Udinese però non molla. Va vicinissimo al pareggio al novantesimo. Quando un brivido corre lungo la schiena di tutti i presenti al Ghevi Stadium. Ma Musso è strepitoso a togliere il pallone dalla porta dopo il tocco impreciso di Lovato. Un intervento superlativo. Quello di Juan Musso che però salva l'Atalanta solamente per 4 minuti. Perché al novantaquattresimo arriva la doccia fredda per i nerazzurri. Beto anticipa tutti su calcio d'angolo e infila l'1-1. Che anche il risultato finale le due squadre si spartiscono il bottino. L'Atalanta raggiunge momentaneamente la Roma al quarto posto a quota 15 punti.